Alla Farnesina ora per la presentazione del patto per l'export firmato proprio oggi. Il Made in Italy può tornare a correre, è stato il commento del ministro degli esteri Di Maio. Sentiamo Giuseppe Malara. Sullo sfondo il patto per l'export, ma la convocazione di un gran numero di ministri alla Farnesina, dei rappresentanti delle aziende che hanno interessi per i mercati esteri delle regioni, ha anche un forte valore simbolico. Luigi Di Maio riacquista così centralità nello scacchiere politico della maggioranza. A qualche mese di distanza dal passo indietro rispetto al ruolo di capo politico del Movimento e dopo aver lasciato la guida della delegazione di 5 Stelle nell'esecutivo a Buonafede, il ministro degli esteri si riprende di fatto la scena, anticipando anche gli stati generali dell'economia che faticosamente Conte sta cercando di realizzare. E nel momento in cui il Movimento è agitato per il ritorno di Di Battista, alla Farnesina sul piatto il ministro degli esteri mette un miliardo di euro con una convinzione ben precisa. Il motore del Made in Italy può ricominciare a correre e siamo qui oggi a firmare insieme un vero e proprio patto, il patto per l'export, che ci lega a precise responsabilità ed impegno reciproco. Siamo ora all'ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia.